C'hai l'atenoidi! Ah mamma, sto andando in Siria! Eh, se te la pisciarie si stiglia subito che c'hai l'atenoidi, almeno ti danno i carcini di lana! Vabbè, comunque quella dell'atenoidi è una battaglia persa, quindi mi sono concentrato sulla questione della galera. Ah ma te prego! Guarda, uno, questi qua non ce vengono. A Torsaceppa hanno fatto sto macello perché c'hanno un po' di gente che gli va dietro. Ma quei nazisti non ce stanno. E due, a me non me si bevono. Io ho fatto una serie per Netflix, ormai faccio come cazzo mi pare. Vabbè, sei troppo sicuro di te, ricordate sempre il figlio di te, la locosa come si chiama Icaro, che stava in fissa di volare sempre più in alto senza mai mettere una sciarpetta per riparassi la gola, che fine ha fatto. E pensa pure agli amici tuoi dei Torsaceppa che stanno ancora in galera. Ah ma magari ci cascano, guarda che nel lavoro mio la galera vende un botto. Pensa a tutta sta roba gangsta che ti racconta il carcere tipo Tupac o Gramsci. Oh, Gramsci ci si è comprato casa con la galera, eh. Ti giuro, non capisco come fai a essere così un coglione. Vabbè, mia madre antica ne capisce queste cose. Comunque sei mannata a piastro gelato. E quindi i vostri propositi erano già definiti. Manna a piastro gelato.